Allora, noi cominciamo questa sera con una parola concita, che è una parola che ci porta Mario, che è Sapiens, per tante ragioni. Intanto perché è il titolo del programma che ricomincia questa sera dopo di noi, la nuova edizione della serie Sapiens, ma anche perché questa settimana è successa una cosa, Mario, che rappresenta per me un salto di qualità, non so se in su o in giù, ma dell'essere Sapiens. Cosa è successo? Cioè in Corea del Sud, dove oltre al premio Oscar di Parasite, è successa una cosa questa settimana, è arrivato un video dalla Corea del Sud, quello di una mamma, Zhang Ji-sung, che grazie alla realtà virtuale ha potuto rivedere e accarezzare la figlia Nayeon, che era morta alcuni anni fa, a sette anni, di leucemia. Guardiamo l'inizio di questo video. Non l'abbiamo mai visto prima, è una cosa che ci lascia, innanzitutto la prima cosa ti lascia sterrefatto, no? Che riflessione fai da uomo di scienza vedendo questa? Naturalmente salva l'emozione che non è proprio naturale dover sopravvivere ai figli e quindi questa è una legge anche di natura. A me lascia piuttosto agghiacciato, nel senso che mi rendo conto benissimo del contesto emotivo. Ma mi sembra che stiamo viaggiando verso una specie, uso una parola un po' forte, una specie di deriva, cioè a dire rifiutiamo tutte le cose che invece sono tipiche di noi sapiens come animali, perché noi quello siamo, benché dotati di intelletto come peraltro tanti altri viventi. Dunque ci stiamo un po' spostando da quella che è l'evoluzione naturale. Rifiutiamo il concetto di morte, che è già una cosa che non si può nominare, già l'abbiamo portata fuori dalle case, negli ospedali, via dall'incontro. Sì, è un tabù. In cui era un tempo, non se ne deve parlare per carità. Non ci si deve convivere, ma neanche con la malattia fino in fondo, è un'altra cosa che allontani. Quelle prerogative di naturalità che sono poi essenziali per l'armonia dei viventi, noi cerchiamo sempre di scardinarle. In questo caso qui andiamo a un punto che, che cosa vogliamo pensare di essere? Una specie immortale o amortale, come dice qualcuno adesso, pensare che gli uomini di domani saranno in grado di sostituirsi addirittura ai pezzi e sopravvivere molto di più dei 100 o 120 anni che si pronosticano, ma addirittura molto di più, salvo gli incidenti o altre cose contro le quali non puoi fare niente, per il resto andresti verso un uomo dio. Tanti hanno scritto pure di questa cosa di uomo deus. Io francamente rimango un po' sconcertato, nel senso che è una cosa allucinante quel tipo di dolore, però non posso nemmeno trovare questa come una specie di scappatoia tecnologica. Cioè, invece di affrontare queste cose da un punto di vista culturale e incorporarle nei nostri orizzonti, cerchiamo la sfuggitura, la via di uscita tecnologica, proprio non la continuiamo. Cina, cosa ne pensi? Interroga veramente tutto questo, la filosofia, la vita, tutto, è un tema enorme. Cosa ne pensi? Guarda Massimo, non lo so, è molto personale. Il lutto è il lutto e non te lo toglie nessuno. Quindi vivi nel lutto, quando qualcuno che ami ti manca, è una condizione che è per sempre. È molto ragionevole tutto questo. Io sono d'accordo che la morte è lì e bisogna ragionarci con la morte, bisogna convivere, però dipende. A me se mi dicessero, puoi parlare con tuo padre un'ora e raccontargli cosa è successo in questi anni, io lo farei. Ti metteresti quel visore e quei guanti. Eh, ma non sarebbe comunque quel padre, non so come dire. Certo, ma è un tema... Tante volte certe cose è meglio che sopravvivano nel ricordo, io penso, perché non sarebbe mai quello, non potrebbe esserlo. Guarda, io faccio un'altra cosa. Le persone quando muoiono vivono dentro di te, quindi il dialogo con la persona scomparse è sempre con te stessi. La gente sta esattamente ripetendo le stesse nostre riflessioni, perché divide questo tema, però è una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Mario, la prima delle puntate di Sapiens, questa sera invece, affronta un tema, direi, l'emergenza ambientale. Su questo, ecco, qui tu noti perlomeno da parte delle nuove generazioni un salto di consapevolezza. Sì, e nei ragazzi sì, mi aspettavo di trovare persone che riflettevano sull'orso polare, sai, queste cose un po' più folcloristiche. Invece studiano, vanno in giro con la pompa della bicicletta, la borracetta ricaricabile, voglio dire che cercano anche di essere un po' coerenti. Io presto molto fiducia in loro, anche perché la generazione precedente a loro, fino alla mia, tutta sta fiducia non se l'è meritata, in quanto non abbiamo fatto poi un granché contro queste emergenze, soprattutto quella climatica. Infatti la cosa che ho detto quando mi invitarono in piazza, la cosa che ho detto è che, vi chiedo scusa per non averlo fatto noi vent'anni fa, quando potevamo forse già farlo, di rivoltarci contro questo tipo di gestione. Senti, per fortuna stasera ti seguiremo ovviamente perché è stata importante, ma per fortuna c'è qualcuno, e qui chiudiamo il cerchio veramente dell'homo sapiens, qualcuno che è sempre pronto a darci una mano. Guardate questa meravigliosa fotografia che questa settimana ha vinto un premio e lo merita, perché c'è questo rango che tende la zampa per aiutare un uomo in difficoltà, una parte della foresta del borne, e insomma, che il petto ti fa? No, mi fa che l'insegnamento, che quello che si pensa un po' erronamente, che le leggi di natura non siano le leggi feroci, sono in realtà le leggi del più adatto, e per essere più adatto la cosa che devi fare è essere empatico, e gli animali viventi lo sanno tutti, noi forse che pensiamo di essere più empatici, siamo meno degli altri, pensiamo che quella sia una giungla, la giungla ce l'abbiamo noi, quelli invece sanno benissimo come si fa, stare insieme è l'unica maniera per sopravvivere armonicamente, i viventi lo sanno tutti, noi un po' lo dimentichiamo. Ma è bello che stasera parleremo molto.